Vittima di intimidazioni è indicato per ipotesi di abuso. Per il sindaco di Licata Angelo Cambiano non tira buon vento. Il primo cittadino anti-abusivismo messo sotto scorta dopo l'incendio che ha colpito la sua abitazione in campagna è stato segnalato dal comitato che riunisce gli ex proprietari delle villette da demolire che ha chiesto di effettuare controlli nella sua abitazione. A Cambiano infatti si contesta un abuso relativo al pergolato dello stabile. La squadra edilizia ha già attuato il sopralluogo ed effettuato i rilievi. Adesso verranno eseguiti i controlli catastali. Il primo cittadino è noto per la sua azione amministrativa contro l'abusivismo edilizio concretizzata con le demolizioni delle strutture sulla costa licatese. A proporne la tutela dopo quanto accaduto lo scorso lunedì sera dove le intimidazioni hanno raggiunto il culmine il ministro Angelino Alfano. Ho comprato la casa e sono pronto a mostrare l'atto così com'è in questo momento ha dichiarato il sindaco. Non ho eseguito alcun abuso edilizio né al pergolato né in altre parti dello stabile. Fanno bene i vigili ad eseguire le verifiche del caso conclude ma io sono assolutamente tranquillo.